I timori di Zeman alla vigilia della gara contro il Catanzaro si sono rivelati fondati. Il peggior avversario da affrontare per il Foggia, tanto più con l'arrivo in panchina del nuovo tecnico Vivarini. Finisce con il successo dei calabresi ed una delle prestazioni più opache da parte dei rossoneri per l'occasione in maglia bianca. Il primo squillo è del Catanzaro con il colpo di testa in tuffo di Cianci e la pala che si stampa sul palo, mentre la risposta del Foggia è tutta in questa punizione di Curcio che Branduani alza in angolo. Il migliore dei padroni di casa è Vasquez che però si presenta con una girata svirgolata su cross di Van de Putte. Non è ancora preciso l'ex Virtus Francavilla sulla conclusione che segue l'assist di Cianci, mentre il 9 del Catanzaro si mette in proprio con un diagonale che Volpe controlla senza problemi. Il Foggia rintuzza e prova a pungere senza esito, prima con la conclusione di Curcio dalla distanza, poi con l'occasione capitata sui piedi di Ferrante servito direttamente dal lancio del portiere Volpe. Branduani fa buona guardia sul primo palo. Il risultato resta in equilibrio anche grazie al riflesso di Volpe sulla girata di Cianci, che diventa uomo assist prima del riposo quando serve a Vasquez il pallone del vantaggio calabrese. La reazione del Foggia, attesa nella ripresa, si manifesta solo con questo colpo di testa di Ferrante al terzo minuto, mentre dall'altra parte Volpe ha il suo da fare sulla conclusione potente del solito Vasquez. E fuori misura il tiro di Verna dal limite, anche se il raddoppio matura su una sfortunata deviazione nella propria porta di Sciacca. La sforbiciata di Ferrante a 10 dal termine è bella solo per i fotografi, ma poco concreta per il risultato del Foggia.